1-0 e bando alle cianci, bando alle cianci, buttiamoci proprio a capofitto senza neanche prendere troppo tempo e però la webcap la devo regolare, no, non mi si vede allora io ho fatto la mia partita, la mia personale dove ovviamente sono andato avanti da ieri a oggi mi sono fatto le mie 5 ore giusto per spipolare un attimo la situation ma noi continuiamo la nostra partita da 39 minuti, l'ultima che c'è stata sì, stiamo vincendo le animastiche che ci siamo fatti, se non mi ricordo male, le pinne, la bombola, esatto esatto ci facciamo un po' d'acqua e partiamo all'esplorazione no, l'acqua e partiamo all'esploration perché devono cercare tutti i frammenti per costruirci tutti i vari mezzi tutti i vari potenziamenti adesso faccio questo cosa c'ho? faccio il titanio, faccio una cassetta per metterci dentro le cose lo lasciamo qua ok andiamo a prendere poi dei pesci ma questo ce l'ho qua, ok non riesci a mangiare facciamoci un po' di scorte perché adesso dobbiamo andare un attimino distanti pesare ah, li vattene in vicinanze attenzione, scorte li vattene in vicinanze adesso andremo a dargli un'occhiata ecco le sale andremo a dargli un'occhiata anche a queste scorte 1, 2, 3 4 adesso ci facciamo del cibo e andiamo verso questo punto si, 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 si andiamo verso queste scorte a questo punto andiamo a farci l'acqua facciamo il pesci trattato vabbè, sapere che può sempre servire facciamo le scorte accumuliamo, siamo compulsivinati qualunque cosa si fa noi lo facciamo compulsivamente ok, vogliamo ritirare un attimino l'acqua bevi mangiti un pesci trattato bom, abbiamo cibo, abbiamo acqua possiamo partire una batteria? ce l'abbiamo una batteria di scorte non ce l'abbiamo attenzione, aspetta perché partiamo senza la batteria e allora vado lì batteria stiamo dicendo abbiamo rilevato scorte di emergenza andiamo a circolo grandi, vanno intanto sopra andiamo a circolo il nostro micro motoscafo non sono neanche troppo distante c'è il pesciolino eccoci, siamo arrivati alla zona dobbiamo trovare ah, 30 secondi, aspetta un attimo tanto è buono, tanto è calma scimmia, ammaestrata conversazione registrata ferma un attimo allora, giuro se mi questa è quasi metà della giornata del sea track altri attivi andai ci vorrei una cimmarina non credo non riesco a farmi pastare la sensazione che questo pianeta sia maledetto non esistono le maledizioni lo so, ha probabilmente ragione non è niente e comunque non vorrei starmi a sentire è solo un'ornicatura intrappolata nel ghiaccio dove? intrappolata nel ghiaccio in una grotta non lontano dal tuo laboratorio e la cosa strana è che non appena l'ho segnalata hanno chiuso l'aria non voglio che nessuno sia vicino e perché? Samy non sono un biologo ma penso ci fosse qualcosa di strano lo sapevi era strano sembrava aliena un alieno sul pianeta? no siamo su un pianeta alieno quindi mi sembra abbastanza palese che ci siano degli alieni su un pianeta alieno di cosa siete Sam? c'è qualcosa che non va vorrei mostratolo ma non posso tornare lì dentro Samy è nostra sorella attenzione Samy tu non puoi ma forse io so come fare in ogni caso non ti ho detto niente Samy ascolta io non voglio farti del male non so se mi... Dio porco dammi sto cazzo è mio infame sono stato ammazzo la prossima volta provaci senti faccio il male fisico anche a te te lo dico eh via 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 mi fregavo la roba io lo sapevo mi fregavo la roba state calmo qua c'è su cazzo su cazzo ho visto il coltello che si arrivano ok è sguardo oh i minerali questo è nuovo ma è nuovo proprio ho detto stami no il coltello mo mo oh grazie me l'hai dato gentilissima cioè gentilissima sei una stronza perché me l'hai presa per carità però gentilissima almeno me l'hai dato fammi analizzare qua va ma che torni a cagare le palle invece si analizziamo tutto perché c'è l'energetica che cazzo è allora poi vediamo quanto spazio c'ho niente devo trovare indietro perché non c'è sostanzialmente più spazio però andiamo a depositare quello che abbiamo poi prendo tutto il titanio che trovo faccio delle altre poi dovremmo metterci bene bene a fare la base in un secondo momento con più calma intanto era tanto per andare qua a vedere un attimo la situation ci abbiamo anche vicino a base quindi se volendo vogliono tornare ci possiamo vogliono tornare quando vogliamo allora costi diversi entra intanto facciamo del vetro giusto per fare un po' di spazio eccolo qua un'altra cassettina si non avevo quello che volevo fare ma scusa mia se io faccio così più o meno aspetta la piattaforma quella per fare come si chiama eccola qua piattaforma mobile per i veicoli cazzata lingotto e il titanio non ce l'abbiamo ci vogliono pure 5 5 di titanio 4 di titanio e l'ingotto di titanio sia poi la batteria sempre servono le batterie sono ben volute e poi lubrificanti microprocessore microprocessore ci serve la lastra di corallo che so già dove andare a prenderla via questo via piombo via anche questo lastra di corallo oro 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 so anche quello mi sa già dove andare a prenderlo si intravedo qualcosa quindi in teoria se la geografia non è un'opinione qua c'è la terraferma eccola qua una piccola miniera d'oro qui eccola qua vena mineralia scusatemi magari so sti cose perché appunto andando avanti nell'altra partita magari ci sono dei dettagli che so già dove sono quindi l'oro c'è ci manca solo il corallo rosso che so anche già dove andare a prenderlo qua vicino ci sono tutti sti coralli qua se vai un po' giù dovremmo trovarli eh che cazzo quindi dovremmo provarli che cazzo è ecco lì qua che cazzo è che cazzo è che cazzo è che cazzo è trasmissione di origine di trasmissione calcolata a circa 200 metri ora io mi faccio una run prendo che si pizzi così qua ci lo so ci devo occupare zia registro del soul track ma aspetta qua c'è 30 secondi di oxigeno la miniera doro di di coralli però ma che mi venga da ammazzare oxigeno appunto oxigeno no no è la fine no ragazzi la mia fine la mia fine no cazzo sapevo io dovevo essere più veloce morto hai perso alcuni oggetti no cosa ho perso no l'oro verso la mia ultima posizione se la trovo adesso panico raga che panico il soul track che si abbassa giù in maniera spropositata non è che mi dice dove è corpo eh chi deve troppo immagino guarda io non so perché ma non si è andato la capsula poi si è andato oltre eh si sono in guaio sono morto da qualche parte il mio oggetto stazione delta si ma non è il momento per rompere le palle si va bene adesso mi lascio recuperare io porco madonna tutto ciò ho perso a trovarlo poi perché voglio capire c'è non c'è e vaffanculo warning è il mio per le file adesso sono morto questa altezza qua più o meno si no ma c'è dai mi ha perso un botto di oro un botto proprio si no credo che non troverò mai più nella vita a parte che appunto potevo usare queste piante qua sti cazzo possiamo dire che è una situazione imbarazzante che io debba correre avanti e indietro un dannato oh 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 guarda qua c'è roba c'è roba ma devo anche darmi una mossa perchè i i i i i niente l'oro più che altro è l'oro devo occupare almeno uno di oro devo dircelo la mia roba io sono sicuro che ecco la ecco la mia roba sta accadendo giudice adesso non so che ho capito adesso comunque sti cazzi dammi la mia roba dammi la mia roba che sta accadendo vabbè 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 non so dov'è sì 100 metri è esattamente al centro stava accadendo giù adesso chiedetemi perché cadeva adesso comunque puoi sentire la base se magari cortesemente ok allora sì modulo però è smaltato che non abbiamo le risorse pratiche per farlo microprocessore invece dovremmo avere le risorse pratiche per farlo e poi per fare quindi la eccola qua a posto qui cioè ci facciamo il nostro camioncino e ci muoviamo e ci muoviamo già più easy ok vai spiazzolo usa piattaforma veiclic ci serve l'ingotto di titanio che è avanzata vetro piombo c'è l'energia c'è già il vetro vaffanculo piombo 3 dovremmo averlo e vai l'ingotto e vai di microprocessore circuito avanzata piombo 3 cazzo ne abbiamo 2 piombo missione primaria di piombo 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 no tagna che pariva questo piombo piombo per oggi che ci siamo facciamo ottimi le scorte di piombo perché poi se lo troviamo apparentemente a prima vista questo già facciamo troppa fatica il nostro ci andiamo la valle facciamo la nostra per il citrock e poi chiudiamo la valle ragazzi che inizia a salitarli questo questo e questo e dovrebbe essere tutto il vetro perfetto attenzione nuovo mezzo voglio capire ci sono gli altri oggi è solo questo mezzo modulare no dai e vai costruisci attenzione cattiveria diamo l'atterraggio in acqua fantastico fremo un po' eh raga tutta la c'era come manovrabilità una bomba l'altro esteticamente era meglio perché vabbè sembra più punto da exploration questo qua adesso dobbiamo attaccarci tutte le cose sistemare tutto soddisfatti soddisfatti ragazzi fatemi sperare nei commenti cosa ne pensate di questo nuovo mezzo potentissimo attenzione guardatelo un po' bruttino ma una volta che ci attacchiamo tutti i pezzi vedete che diventa una cosa un attimo più pensata comunque nei commenti fatemi sperare cosa ne pensate un bel like condividete mi raccomando ragazzi fate un po' quel che vi pare e un saluto a tutti i gamers a tutti i gamers